Benvenuti nel mondo degli orologi Strom. Strom è un marchio svizzero di orologi di alta qualità fondato nel 2001. La società si è concentrata sulla produzione di orologi meccanici di precisione con un design unico e distintivo. La collezione di orologi Strom comprende una vasta gamma di modelli, ognuno caratterizzato da un design unico. Gli orologi Strom sono disponibili in diverse versioni, tra cui orologi da uomo e da donna, orologi automatici e orologi al quarzo. Il marchio Strom è noto per la produzione di orologi che mostrano una grande attenzione ai dettagli e utilizzano materiali di alta qualità. Ogni modello di orologio Strom è realizzato con materiali pregiati come l'acciaio inossidabile, il titanio, l'oro e molti altri. La scelta dei materiali è studiata per dare vita ad orologi unici e distintivi, capaci di soddisfare anche i gusti più esigenti. In particolare, gli orologi Strom sono famosi per l'utilizzo di materiali di alta qualità come il carbonio, il bronzo, il rame e il vetro zaffiro. Questi materiali conferiscono agli orologi una maggiore resistenza e durata nel tempo. Inoltre, gli orologi Strom sono dotati di movimenti svizzeri di alta qualità, che garantiscono la precisione del tempo e la longevità degli orologi. Gli orologi Strom sono molto apprezzati anche per le loro funzionalità avanzate. Tra le funzionalità offerte ci sono la resistenza all'acqua, la cronometrazione, la data, la visualizzazione del fuso orario e molte altre. Queste funzionalità rendono gli orologi Strom perfetti per chi cerca un orologio resistente e funzionale. Strom è anche noto per la produzione di orologi con complicazioni uniche, come ad esempio la funzione di indicazione delle fasi lunari. Queste complicazioni aggiungono un tocco di originalità e di esclusività agli orologi Strom. Inoltre, Strom fornisce anche garanzie e servizi di assistenza clienti per i propri prodotti. Il servizio di assistenza clienti Strom è disponibile per aiutare i clienti con qualsiasi problema o domanda riguardante i propri prodotti.